Le forme sono un insieme di nulla e di tutto. Cerchio Marina attraverso Attilio M, vocedellacchiete.vaglianocchiocciolagmail.com, entità scientifica. Allora partiamo dalle parole. È possibile dire che il nulla e il tutto sono la stessa cosa? E perché è possibile che il nulla e il tutto siano insieme, quando voi continuate ad affermare che il nulla e il tutto siano solo la negazione l'uno dell'altro? Bruno, sono polari, sono dualità, entità scientifica. E la dualità che cos'è se non affermare che una cosa è l'opposto dell'altra? E se è l'opposto dell'altra vuol dire che non può stare insieme all'altra, o no? Il bello è il brutto. Il brutto può stare là dove dico c'è il bello? O il buono è il cattivo? Il cattivo può stare là dove dico che c'è buono? Miriam, ma se non esiste il cattivo, non esiste neanche il buono? Entità scientifica, indubbiamente, quindi? Nelly, possono stare insieme? Entità scientifica, ma che cosa vuol dire che possono stare insieme e pur tuttavia l'uno dice qualcosa che è opposto dell'altro? Giancarlo, che uno non può esistere senza l'altro? Entità scientifica, questo è il punto. E se l'uno non può esistere senza l'altro, l'uno comprende anche l'altro o no? Miriam, sì. Entità scientifica, sì voi dite, in realtà non è esatto. Perché il tutto non comprende anche il nulla. Il nulla non comprende anche il tutto, se non nel senso che il nulla e il tutto sono degli espedienti verbali che servono a esprimere una realtà che ipoteticamente sta al di là del nulla e del tutto. Bruno, tempo fa voi avete detto che quando l'uno emana lo fa attraverso due forze, il maschile e il femminile, che sono due modi per definire due aspetti opposti. Il tutto e il nulla non hanno lo stesso senso? Entità scientifica, proprio così. Il tutto e il nulla hanno lo stesso senso, ovvero sia, fanno parte ancora del duale e quindi non spiegano ciò che noi definiamo come essere, perché per noi l'essere sta al di là della dualità. Allora, la dualità nulla e tutto non serve a comprendere l'essere, se non nel senso che è un modo approssimato per farvi comprendere che l'essere non è né nulla né tutto, ma è qualcosa che non è esprimibile. E la dualità nulla tutto serve soltanto per farvi intendere che nelle l'essere, cosiddetto, e non saprei come altro esprimermi, c'è anche il nulla, perché il nulla non nega il tutto, ma in realtà è la polarità rispetto alla quale l'essere è la sintesi. Quindi Mario, com'è la faccenda che qui si sostiene, ovvero sia l'uno e nulla e tutto, però l'uno diviene e nel divenire crea le forme? Allora le forme sono un insieme di nulla e tutto, è giusto?